Ti sei mai chiesto chi è il rapper più famoso al mondo? Beh, è ovvio che è bello figo. Blocca! No dai, parliamo sul serio. A quanto pare è il rapper vivente leggendario Snoop Dogg. Secondo il magazine XXL, il rapper di Long Beach ha fatto oltre 587 featuring di ogni genere. E oltre è apparso in 80 film e serie online. Comunque, il pezzo per un featuring va intorno ai 250.000 dollari. E se lo vuoi dentro nel tuo video, devi metterne il doppio. Quindi, per il prezzo di una McLaren, hai un fit con Snoop Dogg. Io avrei scelto la McLaren, però vabbè.